L'ultima novità inserita nella compilazione da preferito riguarda la semplificazione nell'inserimento della motivazione dell'espulsione, che prevede, dopo la selezione del cartellino, l'indicazione della fattispecie, così come indicato negli articoli 17 dei regolamenti di calcio a 11 e calcio a 5. Ma vediamo adesso nel concreto queste novità. Aggiungiamo l'assenzione un tesserato. Selezioniamo quindi il nominativo. Selezioniamo il cartellino, in questo caso cartellino rosso. La novità compare in questo nuovo menu a tendina, dove dobbiamo andare a selezionare la fattispecie. In questo caso mi compare già una scritta che mi dice cosa devo fare e come scrivere quello che è successo. Quindi in questo caso scriverò un esempio. Ho descritto in modo breve, ma esastivo, quello che è successo. Vado ad aggiungere un altro cartellino e in questo caso inserirò un'espulsione per doppia munizione. In conseguenza seleziono sempre cartellino rosso, selezionerò doppia munizione. In questo caso non devo descrivere niente, ma indicare solamente il tempo e il minuto dell'espulsione. Quindi primo tempo, minuto 24. In caso invece di cartellino verde, selezionerò sempre prima il tesserato, seleziono cartellino verde e dal menu a tendina andrò a selezionare ad esempio linguaggio ripetutamente blasfemo o volgare. Anche qui devo descrivere in modo dettagliato cosa detto o fatto. Anche qui ho descritto in modo esaustivo quanto accaduto. Nel caso in cui avessi estratto il cartellino rosso successivamente da quello verde, posso cliccare, clicca qui se hai cambiato cartellino, e descrivere di nuovo dettagliatamente cosa è successo. Anche qui ho descritto in modo esaustivo quanto accaduto. Una volta terminato, clicco avanti. A questo punto mi comparirà la pagina di debilogo come succediva già prima. A questo punto dovrò solamente inviare il retratto. A questo punto mi interesse e fine. A questo punto mi interesse intNDT. Grazie a tutti.